Presidente di Brasile, Dilma Rousseff, ha richiesto la violenza nel stadione di futbol in Brasile. Fin di settimana, un fanatico di atletico paranaense e di Vasco abbia formalmente varie stagioni hospitalizzate. E' un paese di futbol non porto violenza, faltando più o meno sei luni per il Mondiale di Cunsa. E' un presidente di una orde più polista nel stadione. E' un problema che si tratta di una prisione di via e di dubbio per il Mondiale. E' un'ultima domanda di prima volta della divisione in onore a tuo luogo, fin di settimana. Il team di Aldovista nazionale ha derrotato Caravelle 7 per 1. Di un altro domanda, Dakota e Bubale hanno empattato 0-0. La fama ha ottenuto un punto importante, empattando con la Britannia 2-2. Un domanda che non ha permesso, che ha scordato il peso di un altro deporte. Il RCA sta gol a Caichetti è 10-2-0. E' un'ultima termina di 80 minuti da con l'equipo di Caichetti sta leccionando e non può completare un equippo al terreno, segun' la regla. E' un'estrella ha derrotato a River Plate 5-1. E la prima volta terminata con RCA in primo lugar con 21 punti, empattata con la Britannia per correre con la migliore averaglia di gol. Dakota, una buona prima volta, terminata con 17 punti, sigue estrella con 16 punti, Nacional, La Fama e Bubale, tutti 3 con 22 punti. River Plate, di 8 luoghi con 21 punti, Caicchetti con 5 punti e nel Sotano, Caravelle, non c'è un punti. Buongiorno a tutti i nostri scorni ha avutato in Futbol Divisione di Honor, ma si va a fare qualcosa che sa qui va a essere. Fanaticone non ti va a arrivare al stadio, ma si è stato visto che il fanaticone non ti va a arrivare, a pesar di che il tipo di scorni, il fanaticone non ti va a arrivare. Cambio, ma si è un punto di scorni.